Il nostro territorio come sta succedendo un po' in tutta la Sicilia, in verità il nostro territorio è un po' meno interessato, è un po' meno colpito, ma comunque vi è una forte carenza d'acqua che sta portando a una continua diminuzione del flusso nei corsi d'acqua tipo i fiumi e i torrenti. Già alcuni tratti dell'Erminio sono in secca e quindi è una situazione in cui si è dovuto intervenire anche dietro sollecitazione della Fipsas che ha evidenziato la problematica e ha fatto presente la necessità di intervenire per salvaguardare la fauna ittica presente nei fiumi. Noi abbiamo una fauna speciale perché nei nostri corsi d'acqua vi è un tipo di trota che è la trota macrostigma che è stata definita internazionalmente una specie endemica della provincia di Ragusa. In pratica è presente solamente in provincia di Ragusa questa tipologia di trota, quindi ha necessità di essere salvaguardata con grande impegno. Noi abbiamo visto la diga praticamente a secco, questo anche per la pesca è un guaio o no? Certamente rappresenta un guaio perché in ogni invaso vi è un livello minimo di presenza di acqua al di sotto del quale tutta la fauna presente va in sofferenza. Diciamo che è un fenomeno a cui si può intervenire con grandissima difficoltà. Nei fiumi questa cosa è ancora più presente perché lì c'è acqua corrente che scorre, mentre nella diga comunque anche se arriva poco, quel poco viene immagazzinato nel bacino. E quindi non piovendo, non essendoci in missione da nessuna parte, è chiaro che per evaporazione, per cosa, la quantità di acqua che c'è nel bacino tende a diminuire. Facendo delle considerazioni di tipo generale, sono situazioni che stanno tendendo a presentarsi sempre più spesso nelle nostre aree a causa proprio dei cambiamenti climatici e dalla posizione della Sicilia rispetto alle altre parti del mondo. Quindi se dovessimo fare anche una previsione, se continua questa tendenza, la situazione potrebbe solo peggiorare, non migliorare. Dovremmo vedere.